Ah no, Carni, lascia, ora vedi, vedi a vedere, vieni qua, guardali, bene, vedi niente? No, sei persuaso ora? Andiamo, c'è l'altra cassa, andiamo, posa la candela lì sopra, e ora? Ah, il mostro di Frankenstein, non ne hai mai sentito parlare? Sì, lo scienziato Frankenstein costruì un mostro componendoli con pezzi di vari cadaveri Ma non hai altro talchezza? Frankenstein lo animò col mezzo di sue speciali applicazioni elettriche, c'è chi crede che il mostro viva ancora Ah, Fandogne, e chi può credere a queste cose? Ma c'è qualcuno che ci crede? No, 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 no Sì, chi è? Io Apriamo questa cassa Gianni, hai sentito? Sì, ho sentito che hai tirato fuori un chiodo, va avanti Gianni, ma sempre con questo Gianni e smettila Dobbiamo far presto, hai capito? Ecco qua, ora alziamolo, tiralo su Buttalo giù Ah, è che ho fatto così Adesso vediamo, vediamo il truccio Via, così Mettili da parte Gianni, Gianni, chiudiamo Chiudiamo subito Che hai? Che hai? Che ti metti? Non c'è, non c'è, non c'è 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 Non c'è Oh, oh, oh Raccatala Ehi, che state facendo senza luce? E' Duga, è un bel guaio Nascondi la testa, via Ehi, che state facendo senza luce